Bruce Jenner, Stati Uniti, in settima corsia per la prima prova del Decathlon dei 100 metri piani. La partenza è buona. Sono tutti appaiati, ma ecco che il tedesco della Germania dell'Ovest in corsia 6 stacca gli avversari, corre verso il traguardo con grandi falcate e lo taglia per primo. Non ero arrivato primo. Ma non deve farsi staccare da Avilov e Kratzmer. Gli Stati Uniti sperano in una medaglia d'oro nel Decathlon con Bruce Jenner. Rincorsa, battuta sulla linea e ottimo salto di Jenner. 7 metri e 85. Due record personali, Jenner è ancora dietro a Kratzmer di 105 punti. Le due prove successive sono il lancio del peso e il salto in alto. La performance della sua carriera. Wright in lane 7. Kratzmer in lane 8 sul lato in alto. Jenner è riuscita più veloce di tutti. Continua a guadagnare terreno. Avilov in corsia 7 e Kratzmer in corsia 8 lo tengono d'occhio. Ma ecco che siamo alla curva finale. Jenner allunga il passo. Supera i due avversari e si porta in testa la corsa. Bruce Jenner in accelerazione finale vola letteralmente verso il traguardo. Bruce Jenner lungo il rettilineo finale in testa al gruppo mantiene un ritmo incredibile. E taglia per primo il traguardo con il tempo di 47 e 51. Ho cercato di correre come meglio potevo, evitando di fare errori e sforzandomi di saltare più in alto del solito per non toccare l'ostacolo. Quando ho tagliato il traguardo non mi sentivo soddisfatto e ho pensato, questa volta è andata male. In realtà il mio tempo era... Le prossime prove sono il lancio del disco e il salto con l'asta. In entrambi i casi... Genner si è avvicinato a un superbo toss e avvicinato a Avilov e Kratzmer. Genner ora si è avvicinato a seconda posizione, 9 punti dietro di Avilov. Kratzmer si è avvicinato a terza posizione. Il steggio totale è avvicinandosi sempre di più all'oro olimpico. Era in prima posizione prima di questa prova. Dovrebbe essere tranquillo perché è una delle prove in cui riesce meglio. Genner fa letteralmente volare il giavellotto. Lancio eccellente. Bruce... Bruce Genner ha inserito il turbo. Genner sta letteralmente volando in quest'ultimo giro. Sta per compiere la sua impresa e sta per battere il record mondiale di Decathlon. Sugli spalti i suoi sostenitori sembrano impazziti. Ecco Genner verso il traguardo che si appresta a battere il record mondiale di Decathlon. dla chi sape estil di tutto. Grazie. Grazie a tutti.